Buongiorno, appunto sono Manuel Rossi, ho fruito, sono stato l'assegnista di ricerca all'interno del progetto D'Anfi, Digital Archives Maggio Musicale Fiorentino. Porto anche i saluti del professor Zangalli che in questi giorni è impegnato in un convegno a Roma, quindi ha incaricato me anche appunto di portare. Ci sono però Manuel. Ah Maurizio, eccoci, buongiorno, allora se vuoi aprire, non ti avevo visto nella lista, allora ti lascio la parola. No, mi sono collegato in ritardo appunto perché ho questo impegno romano, non vorrei rubare troppo tempo, ma solo per dire due parole relative all'impalcatura di questo progetto, poi lascio la parola per gli aspetti più tecnici e di contenuto a Manuel Rossi. Solo per dire che ho assistito agli ultimi, all'esposizione degli ultimi due progetti, che in questo caso si è trattato di un progetto con due anime, quella più importante relativa a un lavoro all'interno dell'archivio del Maggio Musicale Fiorentino e in coda invece un'altra relativa invece all'archivio storico della Università per stranieri di Siena. Entrambi i progetti facevano seguito ad un lavoro già iniziato in precedenza e quindi i finanziamenti ovviamente di Regione Toscana sono stati utili, molto utili da questo punto di vista per arrivare anche ad una parziale conclusione di lavori precedentemente intrapresi. È ovvio un archivio è un lavoro mai finito, però già appunto questi due anni hanno consentito di portare avanti in maniera significativa questi due progetti. Direi solamente che nel nostro caso gli archivisti, un po' come gli storici, sono abituati a lavorare in relativa solitudine. Quindi la pandemia e il Covid non hanno sostanzialmente impedito comunque una prosecuzione dei lavori. Ovviamente è stata impedita magari una più diretta, una più diretto contatto con eventuale pubblico esterno, soprattutto per quanto riguarda la consultazione, ma non il cuore del progetto che era appunto relativo alla inventariazione e informatizzazione e digitalizzazione di documentazione relativa appunto alle due istituzioni che ho citato. Concluso solamente dicendo che sono, e questo appunto è un punto importante del progetto che va sottolineato, sono state instaurate anche dei rapporti con aziende del territorio che hanno aiutato soprattutto sotto il profilo appunto della informatizzazione e della digitalizzazione ad arrivare a un risultato importante di questo progetto per il quale però lascio senz'altro la parola al dottor Rossi perché non voglio rubare altro tempo. Grazie. Ecco, dunque appunto come ha appunto anticipato il professor Zangalli, il progetto rispetto fortunatamente dal nostro punto di vista, rispetto anche a molti dei progetti che sono stati raccontati, illustrati precedentemente, appunto trattandosi di un progetto un progetto rivolto soprattutto alla digitalizzazione del patrimonio archivistico, il Covid ha ovviamente inciso ma fortunatamente in misura appunto più eliminare, forse casomai dal punto di vista appunto anche della comunicazione di certi risultati. D'altro canto appunto, sono certo anche di interpretare il pensiero del professor Zangalli, abbiamo parlato diverse volte anche di questo tipo di approccio, veramente questi assegni hanno costituito dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, veramente un progetto non solo che ha costituito una particolare innovazione obbligando diciamo in qualche modo gli istituti universitari a collaborare appunto con aziende del territorio, con soggetti, con fondazioni e questo forse veramente è un, credo appunto che sia un valore aggiunto particolarmente importante proprio perché costringe e poi dopo più avanti vedremo anche gli esiti di questa, diciamo, di questa costruzione positiva. Ecco, d'altro canto l'aver voluto comunque sia dare inizio a un progetto anche così vasto in un contesto come quello pandemico, appunto credo che sia stato anche dal punto di vista banalmente economico veramente un supporto per tutti noi assegnisti che appunto abbiamo potuto fruire di questa opportunità, per cui ci tenevo anche se a distanza appunto a ringraziarvi e per l'innovatività della concezione del progetto e appunto per questo supporto che è stato molto molto utile ovviamente. Come potete vedere appunto i protagonisti, questo è un progetto che ha una rete abbastanza estesa e appunto parte a un ente promotore che è l'Università per Stanieri di Siena con un partner principale finanziatore nella Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino che all'epoca era rappresentata dal sovrintendente Cristiano Chiarò, su cui poi tornerò a breve per appunto per alcuni elementi di contestualizzazione, con tre partner sostenitori la sovrintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, Iperborea che è un'azienda del settore appunto produce un software di catalogazione archivistica e Stasis che è un'azienda che si occupa di sistemi di gestione documentale e di fotoriproduzione il coordinamento scientifico era appunto rappresentato da Maurizio Sangalli dell'Università per Stanieri di Siena Diana Toccafondi all'epoca sovrintendente e oggi presidente della Commissione Archivi presso il Ministero della Cultura e Franco Rossi professore presso l'Università di Venezia il problema appunto dell'archivio del Maggio era un problema che era stato in qualche modo posto già precedentemente all'interno della Fondazione perché appunto c'è una grande eredità costituita da oltre 14.000 fra bozzetti e figurini che si sono assommati a partire dalla costituzione dello stesso festival nel 1933 e che in qualche modo era andata pian piano a costituire l'anima di un archivio che era inteso sempre più soprattutto a partire dalla mostra del 1979 al Forte Belvedere e la visualità del Maggio come un archivio di pittori questo aveva fatto sì che nel corso del tempo fosse stata isolata una porzione dell'intero archivio che era appunto quella costituita dai bozzetti e figurini che costituisce appunto una delle raccolte più importanti a livello internazionale di pittura del Novecento sono presenti oltre 100 opere di Giorgio De Chirico circa 150 opere di Mario Sironi circa 300 opere di Emanuele Luzzati, Mino Maccari eccetera quindi un patrimonio che per la sua stessa specificità aveva pian piano appunto contraddistinto fortemente l'archivio d'altro canto pur conoscendo bene questo patrimonio esso era sostanzialmente aveva avuto tutta una serie di accortezze, di accorgimenti eccetera tuttavia soprattutto dal punto di vista giuridico si era rimasti molto molto indietro in particolar modo appunto è stato il sovrintendente Cristiano Chiarò ho visto prima Leonardo Brogelli che appunto ha collaborato moltissimo che saluto anche a distanza e che è stata una delle anime insieme ad Anna Ruggero che ci segue anche lei a distanza del progetto per diciamo mettere quelli che erano veramente i tasselli costitutivi della fondazione davvero di un vero archivio giuridicamente inteso in particolar modo il decreto di vincolo da parte della soprintendenza archivistica che è arrivato nel 2017 e poi nel 2019 la realizzazione di un archivio vero e proprio a volte le immagini sintetizzano meglio di molte molte parole cioè si è passati sostanzialmente da questa situazione quindi un luogo in cui le cose erano messe e si sapeva che erano lì ma insomma erano anche di difficile consultazione da parte del pubblico eccetera a un luogo in cui le carte sono fruibili da parte di tutti gli studiosi e non solo proprio interpretando questa doppia anima cioè di archivio però contenitore anche di oggetti particolarmente significativi e particolarmente belli dal punto di vista storico-artistico un archivio espositore in qualche modo in cui appunto fosse anche possibile organizzare piccole mostre organizzare visite così che il patrimonio archivistico e all'interno di esso i bozzetti, i figurini, le maquette eccetera gli abiti di scena e quant'altro fossero fruibili sia da un pubblico più addetto ai lavori che da un pubblico di appassionati o di appunto sia appassionati sia al teatro che diciamo alle arti sceniche in senso ampio se questo è il punto di partenza diciamo relativamente alla sistemazione delle carte il problema più ampio era costituito dagli strumenti che le descrivevano di fatti quando appunto è stato iniziato questo lavoro di riordinamento ci si è accorti che gran parte del patrimonio non era neanche censito sostanzialmente proprio perché era sempre in seno agli uffici ad esempio l'allestimento scenico conservava ancora tutte le proprie cartelle di allestimento quindi diciamo c'era già un salto bisognava passare da una parte all'altra del teatro l'archivio ha consentito di riunirle ma anche il patrimonio che era descritto era descritto con strumenti che spesso e volentieri erano veramente usoleti in particolar modo ad esempio i carteggi erano descritti con il programma Arianna 2.0 che è un aggiornamento del 2002 le schede catalografiche del patrimonio appunto di bozzetti e figurini erano descritte su un software che risaliva al 2007 quindi c'era anche un problema di obsolescenza dei supporti informatici e informativi che metteva a rischio quello che poi era il frutto di altrettante campagne scientifiche condotte con fondi della sovrintendenza del ministero eccetera quindi era diciamo piuttosto prioritario arrivare a individuare una nuova piattaforma che potesse da un lato consentire di salvaguardare la mole dei dati dall'altra di superare questa frammentazione in 5-6 piattaforme descrittive totalmente diverse e non comunicanti tra loro e in questo contesto ecco proprio che è stato calato il progetto Danfi che appunto come avete potuto vedere all'inizio 4 minuti si affiancava affiancava competenze e strumenti e soggetti diversi il risultato che non è ancora stato presentato al pubblico ma che esiste è questo sito all'interno di questo sito che praticamente sono state raccolte vi illustro molto molto rapidamente appunto sono state raccolte i complessi archivistici le unità archivistiche le unità documentarie afferenti all'archivio del maggio il quale è stato descritto nelle serie abiti e gioielli di scena bozzetti e figurini cimeli manifesti modellini manifesti d'autore programmi di sala la fototeca di allestimento scenico le cartelle di allestimento scenico arrivando lo scorro molto molto rapidamente si può scendere ovviamente sempre a un livello e all'interno delle diverse serie i materiali sono divisi per stagioni all'interno delle stagioni per spettacoli i singoli spettacoli appunto si scende si arriva al singolo documento all'interno di ogni scheda sono presenti tutte le informazioni relative al documento sia esso un documento di tempo più tradizionale come un programma di sala sia esso un materiale grafico come in questo caso accanto alla descrizione si ha anche l'immagine così che si possa fruire a distanza anche dell'oggetto ovviamente l'immagine in alta risoluzione che può essere vista e apprezzata sia sul fronte sul retro eccetera con tutti i dettagli possibili complessivamente si è arrivati a ecco poi è presente una modalità di ricerca tipo unità documentaria definizione dell'oggetto soggetto eccetera quindi con una dozzina di campi che permettono una ricerca guidata per cui non sono possibili non è possibile inserire un valore che non è presente se io scrivo un titolo sbagliato non me lo fa neanche inserire perché ci sono ci devono essere i titoli esatti quindi che cosa abbiamo grazie al progetto Danfi un archivio sostanzialmente ricomposto anche dal punto di vista della descrizione informatica che è messa a disposizione del pubblico quindi all'interno del portale abbiamo oltre 14.000 schede descrittive corredate da immagini e complessivamente 15.824 record l'importanza di aver potuto mettere in rete anche appunto aziende del territorio ha fatto sì che sia stato possibile avere anche l'opportunità di avere della scontistica forte su tutta una serie di attività per cui abbiamo potuto anche digitalizzare la fototeca sull'astra di vetro quindi le fotografie dal 33 al 60 sostanzialmente che sono oltre 1.000 se negativi sul vetro che prima non erano ovviamente fruibili e che adesso invece sono a disposizione l'ultimo tassello qual è? che cosa manca? manca sostanzialmente la possibilità di affiancare a queste informazioni di tipo archivistico che quindi hanno un taglio fortemente anche catalografico la cronologia questo perché sia possibile accedere sia scrivendo callas e quindi avere tutte le informazioni relative a quando quella cantante ha cantato nel teatro quando quel titolo è stato eseguito nel teatro sia viceversa partire dal documento quindi in qualche modo in questo momento noi possiamo andare dritti al documento vorremmo aggiungere partire dal titolo e arrivare direttamente al documento questo ora purtroppo il teatro ha qualche come è noto qualche difficoltà economica speriamo che insomma in un prossimo futuro si possano trovare le risorse diciamo per completare quest'ultimo tassello però appunto il portale esiste è aggiornato al 2022 quindi insomma in crediamo in qualche modo di aver potuto mettere a disposizione e prestissimo insomma più ampia a disposizione questa serie di materiali credo di essere nei tempi e vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio